A tre giorni dalla ripresa della didattica in presenza al 50% negli istituti superiori, il quarto giorno prevede che si andrà a scuola ancora più in sicurezza. A Pesaro scatta infatti l'operazione Scuole Sicure. Quattro giorni, quattro istituti, migliaia di tamponi da effettuare agli studenti che desiderano sottoporsi al test gratuito rinofaringeo. Un'iniziativa presentata oggi nella sala del Consiglio Comunale, nella quale l'assessore con delega alla salute Mila della Dora ha illustrato i dettagli organizzativi che vedranno coinvolte 367 classi di studenti. Si parte domani, il 28 di gennaio. I tre siti dove sarà possibile effettuare lo screening sono il Cecchi, il Campus Scolastico e il Mengaroni. Poi nel pomeriggio del 28 di gennaio ci sarà la possibilità di fare lo screening anche per il personale docente e il personale ATA con orario 14.30-18.30, quindi al mattino esclusivamente gli studenti, il pomeriggio personale docente e personale ATA. Nella giornata del 29 di gennaio gli screening saranno al Campus Scolastico, Mengaroni e Santa Marta. Questo è per il primo 50% che rientrerà in classe, per il secondo 50% è prevista la stessa modalità nelle giornate del 2 e 3 di febbraio. Quindi tutti i ragazzi potranno partecipare, il mio augurio è che l'adesione sia alta, serve un grande senso di responsabilità, un grande senso civico. Abbiamo visto in questo anno quello che è stata l'evoluzione della pandemia. Tanti morti, troppi morti, tante persone vicino a noi, quindi faccio un appello alla sensibilità dei nostri giovani cari studenti. Pensiamo anche alle tante persone che sono impegnate in prima linea come medici e sanitari che oltre un anno che stanno cercando di curare e tamponare questa grave situazione sanitaria. Al fianco del Comune Massimo Sierra, in rappresentanza dell'AIL che seguirà la procedura custodendo i dati sensibili degli studenti, Stefano Palma della Croce Rossa che presiderà i quattro siti di screening e Luca Pieri, presidente di un Aspes che ha fornito al Comune migliaia di tamponi. Abbiamo già consegnato questa mattina attraverso il magazzino delle farmacie comunali i 4.500 tamponi della prima tranche. Sono tamponi che sono autorizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono nell'elenco che è stato diffuso dal Ministero per poter effettuare questi test rapidi. Già li utilizziamo nelle farmacie che come gruppo gestiamo in Emilia Romagna. Come i Comuni chiamano, noi prestiamo servizio per conto loro, ci siamo messi a disposizione e abbiamo fatto in maniera efficace ed efficiente questa fornitura. Assieme ai dispositivi di protezione individuale che il personale volontario di AIL e di Croce Rossa utilizzerà nelle operazioni di screening. Dopo settimane di frenate più politiche che tecniche, Matteo Ricci vede dunque la partenza del suo progetto di tracciamento sanitario, invita gli studenti a partecipare numerosi e invita pure la Regione a ripensare a un secondo screening condiviso nei mesi a seguire. Speriamo che aderiscano in tanti perché è un'operazione che renderà rientra a scuola più sicuro. I trasporti sono stati riorganizzati, la presenza al 50% consente un miglior utilizzo degli spazi scolastici, però questo screening di massa con i tamponi veloci consentirà di individuare i ragazzi asintomatici e di evitare che questi possano poi contagiare inconsapevolmente i propri compagni di classe e magari le loro famiglie. Quindi invito davvero a partecipare, è gratuito, è velocissimo, è facilissimo, in pochi minuti si riesce a fare, si fa durante l'orario scolastico a scuola, muovendosi a piedi senza necessità di spostamenti o di trasporti. Quindi insomma invito tutti a cogliere davvero al massimo questa opportunità. Giornate, ne abbiamo detto più volte, di polemiche, di amarezze per quella che è stata la gestione che poteva essere, non è stata, con la Regione Marche. Non è detto che in una seconda fotografia che può essere opportuna in questo tipo di screening si riesca a rilacciare un po' a questo tipo di rapporti. Sì, tristezza è la parola giusta perché non si può tra istituzioni non collaborare, soprattutto la Regione che doveva e poteva farlo autonomamente per tutti i marchigiani, perché ha il personale, perché ha i tamponi a disposizione, oltre 600 mila in magazzino non utilizzati, non solo non l'ha fatto ma non ha neanche collaborato. Adesso addirittura prova a ostacolarlo con un attesamento di minaccia davvero ridicolo. Quindi non capisco perché si continui a fare polemica su un'operazione di buonsenso che ha avuto riscontro di grande positività da parte di tutto il mondo della scuola, iniziare dai presidi. Spero che dopo questo esperimento la Regione torni sui suoi passi e decida di fare lo screening periodico a tutti gli studenti delle Marche, perché i tamponi a disposizione ce li hanno, il personale si può organizzare e perché credo che tutti gli studenti marchigiani possano avere la sicurezza di andare a scuola che hanno quelli che studiano a Pesaro.